con Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Assolutamente sì, come da disposizioni del Ministero recepite dal Questore di Piacenza, grazie al preziosissimo aiuto del Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Piacenza sono stati intensificati i controlli in varie zone della città, dalla stazione Giardini Margherita, senza trascurare ovviamente le periferie della città. Questo al fine di prevenire furti e di rendere sempre più capillare il controllo sul territorio piacentino.